Ischia, Piazzetta, San Girolamo, la festa di carnevale con il concorso delle mascherine, tantissimi bambini, tanto divertimento, ma c'è anche tanta competizione, una giuria attenta che valuterà quella che sarà la mascherina più bella. Mi prenda fra le tue braccia, sai, vorrei capire il tuo pensiero e basta! Bele maschere, genitori allegri, contenti, speriamo che sia una bella giornata per tutti. Anche un bel messaggio quello che per il carnevale non serva niente di eccessivamente fastoso, basta in grande parte l'allegria e la fantasia dei bambini con i loro costumi. Esatto, che poi è la cosa più bella del carnevale, per cui non dobbiamo fare altro noi genitori e noi istituzioni che dare libero sfogo a questa fantasia e a questa creatività. Perché tu sei qui anche in veste di genitore? Sono anche in veste di genitore e quindi in doppia veste, non c'è conflitto di interessi perché sono sicuro che mia figlia non vincerà il primo premio quest'oggi. Però lo meriterebbe, però lo meriterebbe! Ah, questo saranno i giurati a deciderlo! Niente da fare, ci abbiamo provato, abbiamo girato tutta la piazza, ma non siamo stati capaci di capire qual era la mascherina più bella, forse ce ne erano davvero troppe.